Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica, a cura di Don Piero Rattinne. Buongiorno. È un bel racconto quello che ci consegna il Vangelo di questa prossima domenica. Bello nella sua conclusione, perché nella prima parte è un po' sconcertante. Questo Gesù che fa il sordo alle richieste di una mamma, che lo supplica per la sua bambina malata, non rientra nelle nostre attese. È pur vero che quella donna non è ebrea, ma come può essere che Gesù, abitualmente attento alle persone, anziché alle loro appartenenze culturali o razziali, come può essere che distolga la sua attenzione da lei? Io non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa d'Israele, afferma. Equivale a dire, sono qui per gli ebrei, non per i pagani. Quella donna però non si dà per vinta. Il primo rifiuto la rende ancora più audace. Al che Gesù ribatte, non è bene prendere il pane che spetta i figli per gettarlo ai cagnolini. I figli sarebbero gli ebrei, erano talmente convinti di essere popolo eletto da permettersi di guardare dall'alto in basso tutti gli altri. Cani li chiamavano. Gesù è un po' più moderato, usa il delseggiativo cagnolini. Sarà anche vero, signore, riprende quella donna. Però ricordati che anche i cagnolini mangiano le bricciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. A quel punto il signore cambia atteggiamento. La sua durezza era tutta una messa in scena per far esaltare la fede di quella povera donna. Grande è la tua fede, le dice. Avvenga per te come desideri. E' saggio pensare che a questo mondo ci siano donne e uomini i quali, quando c'è da fidarsi di Dio, comunque lo chiamino, si fidano davvero e senza condizioni. Ci sono. E questa storia ci fa rizzare gli orecchi e ci provoca con quell'interrogativo che già ci è familiare in queste domeniche. Perché, certo, siamo credenti in Gesù Cristo, ma in che misura? E se per caso Dio fa il sordo quando lo preghiamo, come reagiamo? Quella donna all'inizio era soltanto petulante, per disperazione. Ma via via che incontrava rifiuto, anziché recedere, si fece ancora più audace. E da petulante diventò credente. Credente dalla fede grande. Dio è un padre che vuole allacciare una relazione forte con ognuno dei suoi figli. Fare il sordo alle nostre preghiere, non di rado, è l'unico modo per farcelo capire. Lui in realtà non vede l'ora di poter dire a ciascuno di noi, sì, davvero grande è la tua fede. Buona domenica. Una parola per noi Commento al Vangelo della Domenica A cura di Don Piero Rattin